Buonasera, domani sarà un inizio di settimana instabile per il nord a causa di queste correnti atlantiche che nel corso della giornata appunto porteranno rovesci e temporali sparsi sulle regioni settentrionali, qualche temporale sarà possibile anche sul nord della Puglia e sulla Basilicata. Tra l'altro attenzione perché nel corso della giornata avremo il rischio di temporali anche molto forti sul Piemonte e sulla Lombardia. Proprio a causa dell'arrivo delle piogge le temperature massime saranno in calo al nord ovest e sulla Sardegna e in generale i valori andranno dai 21 ai 33 gradi da nord a sud. Rimanete come sempre aggiornati anche attraverso la nostra app meteo.it